Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube Oggi, come vi avevo promesso, è lunedì Abbiamo un'analisi gameplay Un'analisi gameplay però, tra virgolette, speciale Infatti oggi cerchiamo di andare a rispondere alla domanda Come si gioca dopo la patch a FIFA 21 Vi avevo detto che avrei aspettato le finali europee PS4 e Xbox Di questo fine settimana del secondo torneo ufficiale Ci sono state, ci sono tanti, tanti spunti su Xbox In particolare ha stratrionfato Diull & Mike In finale addirittura ha vinto con un parziale di 12 a 1 se non erro Quindi oggi vi porto proprio una partita del tedesco Una probabilmente delle più compattute che ha giocato all'interno del torneo Senza spoilerarvi troppo direi che possiamo passare subito alla schermata Perché come al solito ci aspetta un bel videociotto Quindi mettetevi, mettetevi comodi amici miei Abbiamo come al solito lì in basso a sinistra la nostra lavagna tecnico-tattica E direi che possiamo subito partire con il match Vedremo attaccare Diull & Mike dalla destra verso la sinistra in questo primo tempo E il suo avversario Hop Tolle Un ragazzino svedese molto molto bravo da sinistra verso destra chiaramente Vedete come Diull & Mike si dispone in campo con il 5-3-2 Qui iniziamo già probabilmente a rispondere alla domanda Quali sono i moduli che vanno in voga dopo la patch La mia risposta è sempre la stessa Bene o male i moduli rimangono quelli La differenza la fa l'interpretazione che voi riuscite a dare con questi moduli per l'appunto E Diull & Mike ha masterato il 5-3-2 alla perfezione Come andremo a vedere Guardate qui come dopo 4 minuti non ci sia stato neanche l'accenno di un doppio passo Neanche nel centro di centro campo Cosa che sarebbe avvenuta probabilmente in precedenza 200.000 volte Qui vediamo subito una prima tematica Perché dopo la patch in tanti mi avete segnalato che vi è parso Insomma che i passaggi siano peggiorati Cosa che insomma abbiamo rilevato un po' tutti E insomma abbiamo visto un passaggio veramente molto molto facile Essere sbagliato da parte di Diull & Mike Diull & Mike che si pretenza di ignoranza con un bel che si ad un torneo ufficiale Ma questo appunto vi fa capire quanto alcune carte spesso ne siano sottovalutate dai più E guardate come in 10 minuti Diull & Mike non abbia affatto minimamente vedere il pallone agli avversari Andando a suggerire quello che è uno stile di gioco probabilmente più ragionato dopo la patch Vedete come il tema del filtrante si ripropone E questa è una giocata tipica in particolar modo del 5-3-2 Lancio con uno dei due centrocampisti che si allarga in zona esterna Dove si sovrappone il terzino che come vi ho fatto vedere nel video rimane sganciato Anzi in particolare nelle sue istruzioni c'è sovrappone di poi piccolo spoiler tornerà anche il play like a pro In settimana dove porterò proprio le tattiche di Diull & Mike Che insomma secondo me meritano di essere analizzate Quindi palla lunga in fascia verso appunto il terzino che mette in difficoltà la difesa schierata dell'avversario Con la coda dell'occhio vede l'inserimento di Pelé sul palo lungo che sta scattando dietro Varane E lo serve con questo Driven Cross Come si fa il Driven Cross? Tasto del tiro a giro quindi R1 Più tasto del cross ovviamente Quindi diciamo comandi classici con quadrato Ok? Ovviamente poi vi coniugate voi questi tasti in base alle vostre esigenze Viene dunque fuori questo cross teso che Pelé clamorosamente butta fuori da metri Praticamente è zero per la gioia del buon Diullen Quindi dopo 10 minuti arriva il primo squillo pericolosissimo da parte del tedesco Che insomma fino ad ora ha costruito senza concedere Vedete come riesce a operare questa fase di pressione asfissiante E riesce anche ad uscire alto Guardate qui questa è una situazione praticamente tipica del 5-3-2 Perché guardate qui come riesce ad aggredire alto con il terzino In questa zona di campo qua Quando l'uomo è girato di spalle e quindi non rappresenta una minaccia Andare ad accorciare in questa porzione di campo Perché qui lui ha i tre difensori schierati Praticamente E il suo attaccante di riferimento posto in isolamento Quindi lui è tranquillo nel fare questa uscita E anche qualora il buon Ronaldo dovesse girarsi e dare palla qui Lo schema tattico gli permetterebbe magari di andare a selezionare il bomba run E di uscire alto Perché tanto gli rimarrebbero i due difensori che vedete qui In posizione pronti ad andare a chiudere su R9 Quindi vedete come si sta belli coperti con questo modulo Ma si può anche insomma andare a recuperare le palla alti E questo è un qualcosa di importante come vi ho detto mille volte Perché vi permette insomma di poter ripartire con maggiore efficacia Guardate come scambia tra i due centrocampisti per trovare un varco Il varco lo trova con Pelé Ottimo qua il numero E insomma giocata classica questa che vi ho mostrato più volte Guardate qui con pazienza come scambia Poi con Pelé senza troppi artifici si brutta dentro Scoop turn più suola con il 5 skill Palla rimorchio verso Neymar E la schiarica in rete Per la rete che vale appunto l'1-0 Quello che ci tengo a farvi vedere è che dopo 15 minuti Amici miei non c'è stato manco un doppio passo Ma manco così fatto a caso per insomma muovere la palla il giocatore Non c'è stato un doppio passo Quindi come potete vedere Giocatori che si sono abbastanza allineati Su quella che è la situazione attuale Visto che il doppio passo praticamente è più un malus Piuttosto che un bonus andarlo a performare Guardate ancora una volta come quel Bruno Fernandes faccia filtro davanti ad una difesa già nutritissima Permettendo di recuperare palla abbastanza alto E guardate come va a impostare l'azione con quelli che sono i tre centrocampisti Palla scaricata all'indietro In 20 minuti c'è stato un dominio totale Potete notare quella che è al momento la chiave dell'attacco Ossia una manovra molto 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 ragionata E che per certi versi richiama la manovra di FIFA 20 Insomma guardate qui con Pelé come non accenna minimamente al doppio passo Ma temporeggi al limite dell'aria Questo qui anche ci tengo a farvelo vedere Perché fa parte di quella che comunque è la classica azione a scaletta Vedete qui come lui torna indietro Perché nel suo temporeggiare Nel suo muoversi lungo questa zona Annesca tutta una serie di movimenti Il primo è quello di Ronaldo che si va a buttare dentro Il secondo è quello di Neymar che esce dal fuorigioco per venire al rimorchio E il terzo è quello del suo esterno che viene a tagliare in questa zona di campo Quindi movimenti automatici che come sapete si innescano temporeggiando al limite dell'aria Quindi vedete con quanta pazienza lui cerca il movimento Vedete come Ronaldo si era buttato dentro Neymar come era venuto incontro Un bappetaglia per poi allargarsi Palla ancora una volta per Pelé con Bruno Fernandes Guardate come cerca il movimento automatico dei suoi giocatori Con che si che gli si propone Ronaldo si pone proprio in posizione di ricezione Qui con un ottimo reverse elastico Tenta di saltare l'avversario ma non ci riesce Reverse elastico che aprite bene gli occhi Perché sarà una costante di questo post patch Arriverà anche un ulteriore video Vi spiego come farlo anche se è già presente nel canale Sezione tutorial tutorial reverse ed elastico Quindi se volete andare in occhiata è già presente Guardate ancora una volta ragazzi Come si è potuto permettere di andare a fare questa aggressione alta Vedete come i tre centrocampissi gli schermano perfettamente l'attaccante Guardate qui lui optole e gioca con il 4-2-3-1 Quindi vedete il suo 1 qui esattamente ingabbiato da una rete di addirittura 5 giocatori Guardate qui un triangolo praticamente che lo va totalmente a chiudere Quindi lui sa che questo Ronaldo non è una minaccia E anche qualora lui andando a selezionare il suo terzino Uscisse male qui e gli dovesse partire l'esterno alle spalle Non è un problema perché lui ha sempre la superiorità in difesa E quindi potrebbe andare ad accorciare con il suo terzo difensore centrale Quindi ti dà una serie di sicurezze in quelli che sono anche gli interventi difensivi Non male questo modulo Guardate qui intanto recuperare palla così alto che cosa significa? Significa ripartire con una cugna Arrivare al rimorchio Scaricare palla su Pelé Calciare e buttare la palla in rete per il 2-0 Ma questo è un gol che nasce su quel recupero palla ragazzi È un'azione banalissima Ha portato palla su Scarico scaletta classico Palla al centro palla su con l'extrapass finta tiro Veramente un bel gol E che vi ripeto nasce quindi da un'ottima giocata difensiva In barba a chi dice che il 5-3-2 non è un modulo che permette di attaccare Ci tengo a precisare una cosa perché il 5-3-2 è un modulo particolare Non vi sto dicendo che ovviamente adesso do giocare tutti col 5-3-2 Vi sto dicendo che insomma è un'ottima possibilità dopo la patch Perché fa tanta 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 densità al centro Vi permette di poter ripartire con efficacia Però ovviamente non è che andate a mettere questo modulo e siete tutti quanti di un lemmaic Insomma ci vuole il tempo che ci vuole per imparare quelle che sono le sue dinamiche E masterarlo per bene Quindi non temete se magari all'inizio perdete eccetera eccetera Ma fate pratica col modulo Vedete ancora una volta come avviene questo recupero palla Con 60% da parte del tedesco al 35esimo Ma un po' stesso palla che assolutamente non sterile Ma anzi molto 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 propositivo Tant'è vero che al momento lo svedese non è arrivato a calciare in porta Guardate qui come ancora una volta con pazienza con Ronaldo Cerca l'imbucata e cerca di far salire i suoi Guardate come gli si propongono costantemente i centrocampisti Qui Bruno Fernandes viene chiuso dalla difesa avversaria Optolle ha finalmente un'occasione per poter ripartire in contropiede Ma ancora una volta vieirava a fare filtro E Optolle non ha potuto affondare quello che è l'affondo decisivo Proprio vista la densità difensiva da parte di Dull & Mike Guardate ancora una volta qui Mentre Optolle cerca di andare a costruire la sua manovra Si ritrova praticamente un muro Si ritrova un muro difensivo Guardatelo dalla minimappa Dove ha 5 difensori schierati Con terzino su terzino Terzino su terzino Difensore su difensore Difensore su difensore E in più un difensore libero Che può uscire ulteriormente a pressare In più c'è questa rete di 3 centrocampisti Che va ad aggredire i suoi due portatori palla Sempre con un uomo in più Che può andare a operare il raddoppio marcatura Quindi è un modulo che ti dà sempre la superiorità In fase di copertura Visto che la maggior parte dei giocatori avversari Gocano con 4-2-3-1 4-4-2 Quindi solitamente si trovano sempre ad attaccare con 4 giocatori È difficile che abbiano una produzione offensiva Che porta più giocatori in zona pericolosa Quindi ancora una volta recupero di palla Da parte di Ull & Mike Senza troppi patemi d'animo E ancora una volta l'azione che si fa sviluppare in fascia Come vi ho detto mille volte Per cercare di andare ad allargare Quella che è la scatola avversaria Con molta molta pazienza Guardate come i centrocampisti vadano a fare praticamente da playmaker E siano quelli che fondamentalmente producono di più gioco Perché è chiaro che comunque i due attaccanti risultano abbastanza isolati Guardate Peculiare in questo caso è la posizione dei terzini Guardate i terzini che si buttano dentro Cosa comportano Anche se non ricevono effettivamente il pallone Ok anche qui ce n'è un altro Guardate la minimappa Questo terzino sta impegnando quest'uomo qua E questo terzino che sta partendo sta impegnando quest'uomo qua Quindi l'uomo andandosi ad allargare su questo terzino Andandosi ad allargare su quest'altro terzino Praticamente riduce a 3 Quelli che sono i giocatori dello svedese in zona offensiva Questo significa che abbiamo un portatore palla Un attaccante Un altro attaccante Più i due giocatori che stanno salendo A creare una superiorità numerica in zona centrale Quindi questa è una chiave di lettura Che io sto interpretando anche magari nel 4-4-2 al momento Sto provando a giocare con i terzini Non che si sovrappongono ma liberi Quindi Uno schema tattico leggermente diverso Ma poi ve ne parlerò magari in un video dedicato Qualora ne ho effettivamente valutato I benefici di questa giocata Qui ancora una volta è Bruno Fernandes A gettarsi in aria perché spesso e volentieri In questo mobilo i centrocampisti sono Dei Degli attaccanti aggiunti E primo tempo che termina 2-0 Per il buon Diul e Mike Senza aver subito un tiro in porta E con insomma Un netto Predominio Parte la ripresa Il tedesco è un po' stesso palla Per cercare di sfruttare questo kick-off E Insomma dare La buona notte a questo A questo primo game Ricordo che tutte le partite sono giocate In best of 2 Quindi andate in ritorno Lo svedese però Riparte con Con il piglio giusto Piglio giusto Perché è andato sotto 2-0 Non ha toccato palla Quindi si è attivato il momentum Di Mike Schoscia Non è vero scherzo Ciao Mike È una battuta Quindi Riparte con il piglio giusto Magari cambia anche qualcosa Dal punto di vista Tecnico-tattico E vedete come è molto Molto più propositivo Riesce a tenere più palla Qui guardate come ha scardinato bene Quella che è la difesa del Del tedesco Difatti Si va a costruire la rete Del 2-1 Guardate qui È peculiare questa situazione Perché cosa succede? Attraverso il ruolo perno Di Ronaldo Che si va a sganciare Ok? Permettendo Al buon Neymar Di buttarsi tra le linee Praticamente Tiene impegnati Tre giocatori Che si vanno a spostare Dalla zona centrale E si spostano in questo Diciamo Quadrato di campo Questo rettangolo di campo Ok? Rettangolo di campo Che praticamente Li pone fuori dai giochi E quindi va a creare Questo isolamento Scaricando poi Palla qui In questa zona di campo qua Che è l'unico varco Che al momento Gli si è creato In zona pericolosa In 50 minuti Quindi la palla Arriva effettivamente Nei piedi Di Neymar E qui si va a creare Proprio lo spazio Ideale È la prima volta Che i due difensori Di Diull e Mike Non hanno il supporto diretto È con questo 1-2 Che si va Esattamente a sviluppare In questo modo Con questo triangolo veloce Ronaldo riesce a ricevere Il pallone A calciare Anche se Questa possiamo valutarla Come cosa abbastanza ambigua Perché Guardate quanto Sono a contatto Hernandez Ed R9 Con R9 Che riesce a mettere Il piede davanti E calciare Per la gioia Per la gioia di Diull e Mike In basso a sinistra Quindi Accorcia le distanze Il buon Hop Tolle Con Con R9 Dopo veramente Una bella giocata ragionata Vedete ragazzi Ci tengo a farvi notare una cosa Perché prima Ne erano passati 15 di minuti Ora ne sono passati 55 E non c'è stato un doppio passo Per cui Come vi ho detto Fino ad ora Non è la fine del mondo Voglio dire Siamo sopravvissuti A tante patch Non è che togliendoci Il doppio passo È finito FIFA Qui ancora una volta Lo svedese riesce a cogliere Impreparato Diull e Mike Seconda volta In 56 minuti Che riesce a entrare Nell'area dell'avversario Ma Diull e Mike È molto 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 abile A recuperare In questa In questa occasione Però La ripartenza È un attimino Sbagliata Affrettata Quindi Hop Tolle Ancora una volta Una chance In zona pericolosa Ancora una volta Sempre lo stesso pattern 1-2 Tra Neymar e Ronaldo Ronaldo buona la finta Fortunello Nel rimpallo E qui Sigla La rete Del 2-2 Devo dire Qua ancora una volta Ha capito praticamente Come metterlo in difficoltà Cercando di sfruttare L'isolamento Dei due difensori centrali Che sono staccati Dai terzini E in questo caso Il terzo Che è imposto Comunque In una situazione Di deficit Perché si viene Ad aggredire Questo corridoio Ok Quindi guardate Ancora una volta Come si va a giocare Rapidamente L'1-2 Con pazienza A cercare Un'altra volta R9 Finta Varane La recupera Illuminante Poi il passaggio Di tacco Verso il buon Neymar E subito Con un tiro di prima Alla rete Del 2-2 Quindi 1-2 Devastante Da parte Dioptole Che rientra Prepotentemente In partita Quindi 2-2 Con Diull E Mike Che insomma Aveva dominato Fino ad ora E si vede Recuperato In 15 minuti Con i primi due tiri Dell'avversario In porta Ma Vedremo come Insomma Non Non si lascerà Insomma Dare per vinto E riprenderà immediatamente Quella che è la sua Produzione Offensiva Però Guardate anche come Dopo il kickoff Foptole è bravissimo A recuperare palla alta E a cercare di imbastire Quella che è un'azione Pericolosa Da parte sua Guardate come ormai Ha capito Quello che è il pattern Che deve sfruttare Ovvero L'1-2 3-C-O-C E punta Guardate ancora una volta Come si è liberato Lo spazio Per la conclusione Di R9 Qui se proprio Devo dirvela tutta Secondo me Si è fatto un attimino Cogliere dalla Dalla fretta Ok Perché su questo controllo Qui Per me La freddezza Deve farti dire una cosa Questo difensore È troppo lontano L'unico giocatore Del quale Io devo preoccuparmi È il buon Varan Varan Il quale si trova Alla sinistra Di Ronaldo Ok Quindi magari Un bridge Non era consigliato Però In questo caso Varan è posto In una situazione Deficitaria Perché essendo Ronaldo Destro Buttandosi la palla In avanti Avrebbe guadagnato Tanto tanto spazio Comunque Qualora non avesse Voluto fare un bridge E voluto fare un tunnel Direzionale Che arriverà domani Sul canale Come tutorial Che è un'altra skill Molto utile Quindi avrebbe guadagnato Probabilmente più campo Essendo in una posizione Di vantaggio Sarebbe riuscito A arrivare in area E a concludere Sicuramente meglio Di quanto ha fatto Diciamo che è stato Un po' Un Un tiro telefonato Per errore Ancora il buon Di ullen Che cerca di Ripartire in In questo caso Con Walker Finalmente riprende Quello che è il pattern Dall'esterno Con la cavalcata Del terzino Che va in sovrapposizione Vedete come il buon Davis Si sia subito Andato a Inserire all'interno Del match Anche il buon Anche il buon Adama Palla verso Verso Viera A cercare nuovamente Davis Guardate come Adama Gli crea superiorità numerica E si sganciano I difensori Per andare a coprire Però purtroppo Il rimpallo Non gli è favorevole Quindi Palla in calcio D'angolo Scusate Palla rimessa dal fondo Con Optolle Che può ripartire Quindi A cercare Quella che Insomma La manovra La manovra Offensiva Per il Per il vantaggio Guardate come ancora una volta Cerca di buttare in avanti La punta Per creare spazio Per il trequartista Quindi vediamo a confronto Un 4-2 Un 2-3-1 E un 5-3-2 Quindi non un 4-2 Al momento Anche se comunque Nel torneo Ce ne sono stati Ancora una volta qui Buona la triangolazione Chiusa però Ottimamente Da Teo Hernandez Che è veramente Un signor giocatore Soprattutto nella difesa 5 Veramente tanti applausi Per il buon Teo Hernandez Ancora una volta qui Palla per Pelé Scoop turn di Ronaldo Volto a prendere campo Ma purtroppo Non riesce Intanto 75 minuti E io Ci tengo a farvi notare Come non si sia verificato Al momento Nessun doppio passo E il pattern offensivo Ahimè E vi dico ahimè Perché purtroppo Il gioco per me Ne risente a questo punto In rapidità e divertimento Si sia improntato Su quello che è il temporeggiare Al limite dell'aria Per cercare di far muovere i difensori Muovere i difensori Secondo quelli che sono I movimenti automatici Che vi ho fatto vedere Nel tutorial Sull'attacco Qui ancora una volta Recupero palla altissimo Di Di Ull & Mike Con Tavernier E guardate che succede qua Vede sul secondo palo L'arrivo di Ronaldo Spaccate il rete del 3 a 2 Con sonoro Giaaa Urlato in telecamera Ma ancora una volta Guardate qui Il gollo nasce da questa situazione Lui si accorge Che ancora una volta All'esterno Sta partendo dietro al terzino Ma qualora dovesse superargli Il terzino Può andare tranquillamente A chiudere il terzo difensore Allora lui si attiva subito Per andare a selezionare il terzino Uscire Andare a chiudere In questa zona di campo Su Cristiano Ronaldo Con Tavernier Recupero palla Perfetto Ed è rapidissimo A guardare dalla minimappa Che andando ad allargare Palla In questa porzione di campo Può servire proprio La cavalcata di Tavernier E lui con la coda dell'occhio Ha già intuito Che il suo Ronaldo Si andrà a buttare In questa zona di campo qui Quindi ripartenza Fulminia da parte di Di Ull & Mike Palla come vi ho detto Per Bruno Fernandes E qui lui ha già deciso Lui ha già visto Cristiano Ronaldo L'aveva già visto prima Quindi ancora una volta qui Palla che arriva Con R1 E il buon quadrato E il cross Si va a depositare Esattamente Sui piedi di Ronaldo Per la rete del 3-2 Quindi Giocata ancora una volta Fotocopia Da parte di Di Ull & Mike Con questi cross Che Dovevano essere presenti Nella scorsa patch Ma Insomma La loro efficacia È rimasta per me Assolutamente invariata Quindi Occhio anche a questo A quest'altro tema tattico Dei cross Fatti con il tasto Del tiro di precisione Quindi il driven cross Che è molto molto utile Per andare a superare Quelli che sono I muri difensivi avversario Qui guardate come Optolle Cerchi di sfruttare Questo kickoff Anche lui dall'esterno Verso l'interno Seppur con parsimonia Perché sa che c'è comunque Una seconda partita Palla scaricata Come al solito Verso l'esterno Per cercare di rompere La muraglia tedesca Il muro di Berlino Di Di Ull & Mike Che però non crolla Anzi È più saldo che mai Quando mancano ormai Cinque minuti E ora siamo arrivati Praticamente all'ottantacinquesimo Ragazzi Non c'è stato neanche Un doppio passo Ma neanche uno per sbaglio Cioè neanche uno fatto Per muovere le gambe Dei giocatori Quindi diciamo Che i due Si sono adattati Subito a questo cambio E non sembrano Averne risentito Poi più di tanto In barba Quelli che sono stati Tutti gli allarmismi Fatti Insomma Dopo l'aggiornamento Anche se Io vi dico Che comunque Il doppio passo Era un'arma Che soprattutto In Weekend League Tornava molto 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 utile Contro magari Casual player Eccetera eccetera Quindi Anche lì Si è un po' appiattito Lo skill gap Però magari qui Non si vede tanto Perché parliamo di top player Ma vi assicuro Che ne ho viste Di cotte e di crude Questa settimana Comunque Palla per Bruno Fernandes Vedete ancora La pazienza di Dillenmaic A cercare nuovamente La sovrapposizione Di Adama in fascia Vedete come cerca Poi di sfruttare Anche il minuto 90 Quindi l'ultima azione Palla che torna Al Bon Davis Subito dentro In isolamento Per Cristiano Ronaldo Classica azione Alla FIFA 20 Con l'ottima chiusura Di Varane Partita dunque Che termina Sul risultato Di 3 a 2 Con una Conduzione Praticamente Impeccabile Da parte di Dillenmaic Abbiamo visto Veramente un bel game Due schemi tattici Totalmente diversi A confronto Vi posso dire Tranquillamente Quindi che Come si gioca Dopo la patch Bisogna sposare Raga Uno stile di gioco Molto più ragionato Cercate di ricordarvi Un po' come giocavate L'anno scorso Perché quello sarà Tanto 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 Il tema tattico Spero che questo video Vi sia piaciuto Aspettatevi in settimana Tanti contenuti Raga Tutorial Moduli Tattiche Nuove Istruzioni Tutto quello che volete Vi esorto come al solito A lasciare un like E un commento A questo video Iscrivetevi al canale Che stiamo andando una bomba E trovate in descrizione Invece tutte le info Sulle live giornaliere Sulla piattaforma Viola E nulla ragazzi A me non resta altro Che salutarvi Ciao ciao